benvenuti al secondo incontro della Navident Case Clinic Circle l'idea come sapete quella di poterci confrontare su conoscenze legate alla chirurgia dinamica facendo leva un po' dell'esperienza di tutti nel caso specifico la mia esperienza è un'esperienza tecnica ma accanto a me ci sono appunto colleghi appunto che inizieranno che hanno iniziato un percorso di utilizzo della Navident da qualche tempo e quindi hanno interesse a condividere con voi le loro esperienze noi abbiamo innanzitutto un perché abbiamo costituito il Case Clinic Circle e il perché è legato innanzitutto all'idea di favorire appunto la condivisione delle esperienze e delle conoscenze ma in una modalità appunto di massima apertura a tutti sia gli esperti che non dando quindi la possibilità a tutti di poter partecipare attraverso una conversazione possibilmente circolare quindi non una conversazione di tipo accademico ma una conversazione che preveda appunto un contraddittorio oppure un confronto di esperienze l'idea è quella di mettere insieme appunto attraverso questa comunicazione circolare e non unidirezionale una comunità di professionisti che abbiano appunto la passione di migliorare se stessi infatti concetto che guida che ci guida che guida appunto le persone che sono qui oggi è sicuramente quello di poter migliorare o l'uso del Navident che magari già si è inserito all'interno dell'attività di studio ma anche semplicemente quello per chi non lo ha di capire le possibilità e le potenzialità della chirurgia dinamica nell'ambito odontogliatrico. Queste sono le motivazioni che ci spingono a portare avanti questa iniziativa che è un'iniziativa che ha un regolamento. Il regolamento è quello di prevedere appunto un accesso gratuito a tutti gli utilizzatori Navident e a coloro che hanno partecipato al corso di abilitazione Navident quindi anche coloro che comunque non hanno deciso poi l'investimento ma comunque hanno acquisito delle conoscenze di base che comunque li hanno messi nella condizione di avere comunque un interesse relativamente a questo argomento. Per quanto riguarda invece gli altri noi abbiamo pensato di prevedere due incontri gratuiti e gli incontri gratuiti sono praticamente gli incontri che ho gestito io. Questo incontro che stiamo registrando e quindi che comunque renderemo pubblico caricandolo sul canale YouTube che gestisco è un incontro precedente che aveva come obiettivo quello di focalizzare l'attenzione del clinico sulla motivazione legata appunto alla chirurgia dinamica. Per quanto riguarda gli altri incontri questi altri incontri sostanzialmente saranno appunto incontri che appunto prevederanno una appunto partecipazione con una FII minima di euro 50 più IVA a mese e appunto abbiamo inserito sostanzialmente un incentivo e cioè quello di prevedere con la partecipazione a tre mesi di questi eventi la possibilità di avere uno sconto del 10% sul prossimo corso di abilitazione. Per cui a partire dal prossimo incontro l'accesso al webinar sarà attraverso una password che io genererò e che permetterà alle persone appunto interessate a partecipare al terzo incontro di poter accedere a questo incontro. Quindi ci sarà una password quindi l'aspetto diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso è che appunto in questo caso avremo una password oltre al link una password che dovrà essere inserita e che vi permetterà di poter accedere a questo incontro. Facciamo un piccolo punto su quello che è il calendario delle presentazioni. Come accennavo l'11 gennaio abbiamo fatto un primo incontro di introduzione alla chirurgia navigata. L'obiettivo del mio incontro è quello di presentare i protocolli tecnici di lavoro e quindi in questa ora e mezza ora ora e mezza che saremo insieme avremo la possibilità di condividere nel dettaglio i protocolli tecnici Navident. Dopodiché Antonio inizierà l'8 di febbraio quindi la serie di incontri gestiti non da un tecnico come sono io ma direttamente dai clinici. Antonio parlerà della rivoluzione del trattamento della mandibola gravemente atrofica l'8 di febbraio e il 22 di febbraio perché gli incontri come vedete sono uno ogni 15 giorni tratterà lo scoglio dell'implantologia computer assistita scattering conoscerlo e gestirlo. Seguirà appunto i due incontri di Luca che inizieranno a marzo, l'8 marzo, errori, insuccessi e colpi di fortuna da evitare in chirurgia implantare e il 22 marzo Luca faciliterà l'incontro il cui tema è la pianificazione biologica con Navident dal caso semplice a quello complesso. Seguirà nel mese di aprile Rudy, il 12 aprile appronterà le dentulia inferiore e il 26 aprile invece affronterà le dentulia superiore. Seguirà poi Paolo che a maggio parlerà delle cerature per un'implantologia protesicamente guidata e il 24 maggio le tecniche nelle dentulia parziale. A chiusura degli interventi clinici nel mese di giugno Luigi parlerà dal protocollo l'onforo l'onsixa al nuovo da Vinci e il 21 giugno affronterà il tema del paziente atrotico e la riduzione dei costi biologici ed economici. Questo è il calendario che ci porterà praticamente fino a giugno e come vedete vedrà interventi di clinici ogni due settimane, a cominciare appunto da Antonio. Io inizio presentandomi, mi chiamo appunto Luca, rappresento all'interno di questo gruppo di clinici in realtà un tecnico, sono il responsabile, rappresento Navident e la mia esperienza professionale in realtà inizia nell'ambito dei medical device, quindi nell'ambito ospedaliero e dal 2002 invece entra nell'ambito odontogliatrico. Io mi sono occupato nel 2002 di sviluppare il laser Erbio, Iag e Diodo della Biolace Technology, di sviluppare l'attività di business per conto della Biolace Technology in Italia. Nel 2007 invece per conto di Materialize Dental ho aperto l'ufficio italiano con il Simplant, quindi l'attività è stata legata allo sviluppo del concetto della computer guidata statica. Nel 2014 Materialize Dental è stata acquisita da Dennis Fly Silona e quindi io dal 2016 mi occupo di chirurgia dinamica, quindi di chirurgia guidata ma dinamicamente, in modo dinamico dalle immagini e quindi con il Navident. Quindi abbiamo ormai messo insieme cinque anni di esperienza legati al Navident. Allora io inizio facendo appunto una premessa che è quella in cui noi tutti ci troviamo, in quella che Klaus Schwab, che è il fondatore e direttore esecutivo del World Economic Forum, ha chiamato la quarta rivoluzione industriale e lui ha identificato appunto il termine quarto proprio per distinguerlo da tutta una serie di avvenimenti che nascono appunto con l'invenzione del motore a vapore nel XVIII secolo, con l'invenzione dell'elettricità nel XIX secolo, del computer e della radiofonia appunto del concetto di mobilità del XX secolo e oggi appunto che siamo nel XXI secolo si parla appunto di un mondo connesso, si parla di internet delle cose. Per quale motivo faccio questa piccola digressione iniziale? Perché questa è una rivoluzione che è indipendente dalla volontà del singolo, per cui il singolo può in qualche modo opporsi a questo stato di cose, può decidere di non comprare un cellulare, può decidere di non utilizzare internet, può decidere di compiere degli atti che vadano contro questo stato di cose, ma questo stato di cose in realtà è ineludibile, è ineluttabile, è un'onda che in qualche modo ci coinvolge, ci circonda e quindi tutto sommato rappresenta la realtà che noi in questo secolo siamo chiamati a vivere. E questo concetto appunto della quarta rivoluzione industriale è un concetto che troviamo traslato anche nell'odontoiatria 4.0, perché non è che appunto l'odontoiatria è un'isola al di fuori di un contesto tecnologico come quello identificato da Klaus Schwab. L'odontoiatria è a tutti gli effetti all'interno di questo meccanismo, di questa onda che coinvolge e colpisce tutti quanti. E quindi è evidente che noi ci confrontiamo, ci dobbiamo confrontare con una realtà tecnologica e nell'ambito specifico l'aspetto tecnologico che come sapete noi affrontiamo durante i nostri contri è quello della chirurgia dinamica che rappresenta una novità in termini assoluti nell'ambito dell'implantoprotesi ed è appunto una tecnologia che ha una sua definizione e la definizione è quella di essere una motion tracking technology, cioè una tecnologia che traccia i movimenti e non solo traccia i movimenti ma è in grado di riportare questi movimenti all'interno di un programma che è appunto il software Navident dandoci la possibilità di visualizzare in tempo reale quello che viene fatto direttamente all'interno dell'anatomia del paziente. In che modo si riesce a ottenere questo risultato? Attraverso queste scacchiere che voi vedete fissate in bocca al paziente piuttosto che non la scacchiera che viene fissata direttamente sul contrangolo. Queste scacchiere, vedete questo colore bianco e nero viene letto dalle due telecamere che si posizionano a questa altezza del Navident, vedete il Navident è costruito da un carrello con un braccio articolato su cui poggia un computer, il computer Navident, quindi fa parte integrante del sistema Navident, è il computer che ci fa vedere in tempo reale quello che avviene nella anatomia del paziente e come vedete sopra a questo stelo c'è una scatola bianca con due occhi e sono appunto le due telecamere Micron Tracker, questa è una tecnologia proprietaria dell'azienda canadese Claronav, queste due telecamere non fanno altro che intercettare le scacchiere presenti sul paziente e presenti sul contrangolo e attraverso il software queste informazioni vengono montate direttamente sulla combim, quindi quello che il clinico fa di fatto è navigare la combim del paziente, questo è l'elemento chiave e come avviene questo meccanismo, avviene un meccanismo molto semplice perché queste due telecamere non sono altro che i nostri due occhi, noi abbiamo una visione 3D perché abbiamo due occhi, quindi la distanza che esiste tra un occhio e un altro ci permette di visualizzare un angolo e quindi attraverso questo angolo noi abbiamo una visione tridimensionale, le due telecamere ugualmente sono autonome e attraverso queste due telecamere si acquisisce non solo un punto nello spazio ma anche un angolo e quindi otteniamo delle immagini tridimensionali e sono appunto queste immagini tridimensionali che il software va a matchare sopra le immagini tridimensionali della combim, quindi noi abbiamo una navigazione 3D, questa è la logica di funzionamento della chirurgia dinamica. Io parto sempre da un'affermazione importante perché questa è un'affermazione che mi viene spesso riferita e cioè il concetto di ma io gli impianti li metto senza chirurgia navigata, io non ho bisogno di avere una chirurgia navigata per mettere gli impianti e questa affermazione è assolutamente vera, questa affermazione è talmente vera per cui il navigante e la chirurgia dinamica non servono per mettere gli impianti, servono viceversa per fare una chirurgia protesicamente guidata, quindi servono per fare implanto protesi, quindi per riuscire ad inserire su degli impianti una protesi congrua che è stata progettata prima dell'intervento chirurgico, direttamente attraverso il software Navident, quindi la chirurgia dinamica serve per l'implantoprotesi, non per la chirurgia implantare e qui facciamo riferimento ai due professionisti che appunto nel 2007 per primi hanno introdotto il concetto della chirurgia protesicamente guidata che sono il dottor Scott Gans e il dottor Philippe Tardier, che sono i padri della chirurgia protesicamente guidata. Allora tutta una serie di informazioni le abbiamo condivise l'altra volta, affrontiamo i termini a questo punto un po' più tecnici legati alla sessione di oggi. Allora, l'aspetto importante per quanto riguarda la chirurgia dinamica è il concetto di registrazione dei dati della COMBIM, dei dati della TAC. Che cosa significa registrare i dati TAC? Significa assicurarsi che le informazioni della COMBIM siano assolutamente registrate con le informazioni effettive dell'anatomia del paziente. È evidente che se ci fosse un'incongruenza tra l'anatomia del paziente che ho di fronte e il dato TAC, la mia attività chirurgica sarebbe a rischio, perché evidentemente c'è un errore. Come facciamo ad assicurarci che l'anatomia del paziente sia perfettamente rappresentata dai dati della TAC? Ci riusciamo attraverso un'operazione che si chiama appunto tecnicamente di registrazione. Quest'operazione in realtà la possiamo sviluppare in quattro modalità diverse. La prima modalità, quella del fiduciario radiopaco o del marker radiopaco o del mattoncino Lego di storica memoria, prevedeva nella sostanza l'idea di poter inserire in bocca al paziente durante la scansione TAC un elemento radiopaco noto che potesse essere preso come punto di riferimento per la registrazione della TAC. In altre parole si faceva e si portava avanti quello che in epoca analogica era rappresentato dalle sferette in piombo di diametro conosciuto. Voi ricorderete che in epoca analogica e non digitale c'era la possibilità di inserire dei byte con delle sfere magari di diametro di un millimetro, effettuare la TAC e poi sull'acetato andare a misurare il diametro di queste sferette. Se il diametro era maggiore o inferiore al millimetro, che nella mia ipotesi era esattamente il diametro delle sferette, il clinico sapeva che le informazioni TAC erano o sovradimensionate o sottodimensionate, a seconda che la lunghezza fosse maggiore o inferiore a un millimetro. Questa operazione in epoca digitale si è risolta attraverso l'inserimento di un marker, quindi di un qualche cosa di conosciuto a livello volumetrico, perché le sferette erano volumetriche, e quindi noi abbiamo bisogno di un volume radiopaco e non di un piano radiopaco per poter registrare l'anatomia. Per quale motivo? Perché l'anatomia è tridimensionale, la COMBIM è tridimensionale, quindi noi abbiamo necessità di avere un volume tridimensionale per andare a registrare l'anatomia del paziente direttamente sui dati della TAC. Questo è stato il primo metodo che si è utilizzato e in qualche modo questo metodo è ancora utilizzato dalla nostra concorrenza, se non che appunto il Navident ha innovato e ha introdotto altri tre metodi di registrazione. Il secondo, il tracing on teeth, quindi la registrazione sui denti, che è stato introdotto dal Navident a partire dall'estate del 2018, nasce un po' come un uovo di colombo e cioè nasce dall'osservazione che in realtà all'interno della bocca del paziente abbiamo degli elementi radiopachi tridimensionali e questi elementi sono i denti, perché noi sappiamo perfettamente che lo smalto dei denti viene visualizzato con il colore bianco e quindi è facilmente identificabile dalle informazioni della TAC. Per cui l'intuizione della Navident è stata quella di dire ok ma se noi tracciamo, cioè utilizziamo uno scanner a contatto e attraverso questo scanner a contatto, che non è uno scanner elettromagnetico come i famosi scanner da banco o gli scanner conosciuti dal punto di vista di mercato, ma stiamo parlando di uno scanner che è un punteruolo, che è un tastatore e attraverso questo tastatore non facciamo altro che disegnare la superficie minimo di tre elementi dentali, possiamo dare questa informazione al software e il software in grado di registrare questi elementi dentali, tridimensionali, direttamente sui dati 3d della COMBIM. Questo è quello che il Navident fa dall'estate del 2018. Quello che invece è stato inserito più recentemente, stiamo parlando appunto della registrazione sulle mini viti, è una registrazione che chiaramente è stata pensata ed inserita successivamente alla registrazione sui denti, proprio come potete immaginare, sui pazienti totalmente dentuli, perché è evidente che i pazienti totalmente dentuli non hanno degli elementi radiopachi che sono appunto le corone, per cui abbiamo necessità di andare noi ad inserire questi elementi radiopachi in bocca al paziente prima di effettuare la COMBIM. E quali sono questi elementi radiopachi sono appunto le mini viti trasmucose, sono delle mini viti che vengono inserite o a livello occlusale o a livello vestibolare in una modalità che possa essere appunto di 4-5 di queste viti gestite sull'arcata, quindi gestite sostanzialmente sia su tutti e due quadranti e attraverso queste viti praticamente questo tastatore invece di tastare e di scansionare a contatto i denti scansiona queste mini viti. Questa è la modalità di registrazione sui pazienti totalmente dentuli. Ma c'è una quarta modalità di registrazione che è appunto il tracing sul file STL. Perché questa modalità? Perché in alcuni casi possiamo avere del metallo ceramica in bocca che crea dello scatter, cioè crea degli artefatti. La radiazione ionizzante che colpisce l'artefatto, che colpisce praticamente la corona metallo ceramica, vede questa radiazione riflessa e questa riflessione della radiazione ionizzante crea una nube che appunto prende il nome di artefatto. Questa nube ha un effetto indesiderato che va a coprire le informazioni anatomiche del paziente. Per cui in alcuni casi non è possibile registrare gli elementi dentali, perché non stiamo parlando di corone naturali, ma stiamo parlando di corone in metallo ceramica che creano artefatti. Per cui abbiamo dei pazienti che hanno dei denti, quindi non sono totalmente dentuli, ma questi elementi dentali sono in metallo ceramica e il metallo ceramica crea artefatto. Come possiamo registrare in questa circostanza i dati anatomici sui dati dell'attacca? Appunto attraverso il tracing con l'STL. Cos'è il tracing con STL? Ne più e ne meno che è un file STL preso questa volta sì con lo scanner intraorale, quindi con quello elettromagnetico, non con lo scanner a contatto sia da banco che chairside, ma l'STL è necessario, più e nemmeno che prendere l'arcata, in questo caso dentula, del paziente e creare un file STL che io posso andare ad importare sul Navident, posso andare a registrare questo file STL sugli elementi anatomici propri propri del paziente, quindi le corone in metallo ceramica, e invece di andare a utilizzare il mio tastatore sulla corona ceramica io vado a utilizzare questo tastatore direttamente sulle informazioni anatomiche rappresentate dal file STL. Quindi io farò una registrazione direttamente sulle immagini dentali e che io ricavo dal file STL. Queste sono le quattro modalità che sostanzialmente sono a disposizione del clinico che utilizza il Navident e io sottolineo il Navident perché la nostra concorrenza al momento non sviluppa queste quattro soluzioni, ma la nostra concorrenza lavora ancora con questa modalità cioè quella di poter avere in fase di scansione un elemento radiopaco, abbiamo detto volumetrico, che viene inserito in bocca al paziente. Per cui qual è lo svantaggio di questo protocollo e per quale motivo noi siamo passati da questo protocollo a quest'altro protocollo? Vedete, before and after, prima e dopo. Siamo passati da questo a quello perché questo protocollo vincola l'utilizzatore a due elementi importanti. Da una parte il fatto che io debba fare un'attacca specifica inserendo questo repere radiopaco in bocca al paziente e dall'altra parte l'inserimento di questo repere radiopaco potrebbe causare degli errori che poi vanno a tradursi sostanzialmente in un'incongruenza che non ci permette di poter lavorare in modalità dinamica. Qual è il grande vantaggio di questo protocollo? Lo vedete, il paziente in questo caso ha semplicemente due rulli salivari che servono semplicemente per tenere separate le due arcate, quindi io non ho più bisogno di avere un'attacca specifica per il Navident, io posso lavorare direttamente con un'attacca standard. Qual è quindi il grande vantaggio? Che io, se devo riferire il paziente a un centro radiologico, chiederò al centro radiologico un'attacca standard e poi se il paziente dovesse presentarsi a studio già con una sua attacca, che sia chiaramente recente, quindi non un'attacca che abbia un'anzianità maggiore di 30 giorni, ma un'attacca che abbia almeno un'anzianità entro i 30 giorni, quella stessa attacca io posso, io clinico, posso utilizzarla per fare la mia progettazione e per eseguire la progettazione in modalità dinamica. Questa è una piccola rivoluzione copernicana. Quali sono questi strumenti che noi appunto abbiamo in qualche modo, di cui abbiamo accennato? Innanzitutto è il tastatore, vedete questo è il nostro tastatore, cioè è una punta collegata ad una scacchiera, ancora una volta bianca e nera, quindi ho la possibilità attraverso questa scacchiera di poter far leggere questo oggetto dalle due telecamere, dai macron tracker, e quindi attraverso la calibrazione di questa punta io posso andare con questa punta a disegnare la superficie dei minimo tre elementi dentali che noi dobbiamo appunto disegnare per poter effettuare questa registrazione. Ma noi abbiamo visto appunto più oggetti, abbiamo visto un tastatore, in queste immagini vediamo un contrangolo, sappiamo che con il Navident possiamo utilizzare anche un manipolo piezo, come facciamo a comunicare con il software la tipologia di strumento che ci serve per la nostra attività? Lo facciamo appunto utilizzando questo oggetto in metallo che prende il nome di calibro. Vedete questo oggetto, che è anche lui una scacchiera, perché vedete questa parte è la parte frontale, mentre questa è la parte posteriore. Questa scacchiera ancora una volta viene letta dalle due telecamere e a seconda di dove io vado a posizionare il mio strumento, vedete ci sono dei numeri 2, 3 e 4, 1L e 1R, a seconda di dove io vado a posizionare il mio strumento di lavoro, il software capisce dove e come, che tipo di strumento stiamo e vogliamo utilizzare. Quindi questo è un elemento, il calibro, che insieme al tastatore, insieme al contrangolo e insieme alla scacchiera che noi andiamo a fissare sul paziente, rappresenta una chiave importante nell'ambito dell'hardware a disposizione del clinico per lavorare con il Navident. Allora, affrontiamo in modo più specifico qual è il protocollo Navident per la gestione del paziente parzialmente edentolo. Abbiamo detto che partiamo da una COMBIM, vedete è una COMBIM standard, non da una COMBIM in cui il paziente indossa un elemento radiopaco. In questo caso il paziente sta mordendo un byte, il byte della COMBIM. Quindi partiamo da i dati della COMBIM. Dopodiché cosa facciamo? Importiamo i file DICOM. È necessario esportare dalla COMBIM i file DICOM che sono chiaramente il pacchetto delle assiali del paziente. Voi sapete che la COMBIM è un esame volumetrico a forma di cono, da cui il termine COMBIM, raggio a cono, ma che poi noi dobbiamo necessariamente identificare un piano clusale. Attraverso questo piano clusale noi abbiamo la possibilità di avere appunto le informazioni assiali riferite al paziente. Questo pacchetto delle assiali viene tradotto in tanti file quante sono le assiali e quindi in tanti file DICOM. Potrebbero essere 200, 300, 400 file DICOM, ogni file è legato alla singola assiale e il numero degli assiali è legato al tipo di dimensione di spessore della tomografia. Per quanto riguarda il requisito Navident, questo spessore non può superare i 0,4 mm. Quindi tutto ciò che è massimo 0,4 a scendere rappresenta appunto una dimensione della tomografia congrua rispetto alla chirurgia dinamica. È evidente che minore è la dimensione della tomografia, maggiore è la qualità e la quantità di informazioni che noi ricaviamo dal paziente. Dopo che noi praticamente abbiamo importato i nostri dati, cosa possiamo fare? Immaginiamoci che abbiamo il nostro laboratorio che abbia sviluppato una ceratura diagnostica e quindi abbia sviluppato e ci abbia dato un file STL. Vedete questo è il file STL della ceratura diagnostica che è stata confezionata digitalmente dal laboratorio. Come è stata confezionata digitalmente? Lui potrà aver utilizzato o dei software dal laboratorio come Exocad, come 3Shape, come InLab, ci sono diversi software del laboratorio, ma può anche semplicemente aver confezionato in modo analogico il setup diagnostico e possa poi averlo scansionato con uno scanner da banco. Il punto di arrivo importante è questo file STL che rappresenta la ceratura diagnostica. Per quale motivo questo file è importante? E' qui perché mi ricollego a quello che abbiamo detto all'inizio. Il Navident non serve a mettere gli impianti, il Navident serve per un implanto protesi, quindi per una chirurgia protesicamente guidata. Quindi attraverso questa informazione noi possiamo conoscere che tipo di protesi abbiamo in mente da fissare in bocca al paziente. Quindi l'operazione che noi andremo a fare sarà quella di registrare questo file STL, sempre attraverso l'uso del Navident, direttamente sui dati della TAC, in modo da avere non solo il dato anatomico che sappiamo essere congruo rispetto all'anatomia del paziente, ma abbiamo anche il dato protesico e quindi dopo queste informazioni possiamo fare una pianificazione del caso e quindi possiamo andare a inserire la posizione degli impianti in base ai vincoli protesici che sono stati inseriti all'interno del Navident. Questi vincoli protesici sono da una parte la ceratura diagnostica, quando abbiamo un paziente con una semiarcata edentula o quando abbiamo un paziente con l'arcata totalmente edentula, ma se abbiamo una edentulia intercalata abbiamo la possibilità sempre con Navident di poter progettare una corona virtuale. Abbiamo una libreria di corone che andiamo ad inserire direttamente sui dati anatomici e questa libreria virtuale di corone ci permette ancora una volta di avere il dato protesico in modo da poter pianificare l'impianto, la posizione dell'impianto, rispetto sia al vincolo anatomico sia al vincolo protesico. E quindi eccolo qui, abbiamo le nostre informazioni a livello implantare. Che succede dopo la progettazione? Dopo la progettazione entra in gioco appunto il tracing, cioè entra in gioco la registrazione dell'anatomia del paziente sui dati della tacca. Come la facciamo? Abbiamo già visto che abbiamo bisogno di alcuni elementi, abbiamo bisogno del tastatore che è appunto lo scanner a contatto che ci permetterà poi di toccare la superficie di almeno tre elementi dentali, abbiamo già visto il calibro che è quello strumento in metallico che ci permette di comunicare al software la tipologia di utensile che stiamo utilizzando, in questo caso il tastatore, andandolo a posizionare in una posizione specifica, in questo caso direttamente sul numero due, e abbiamo detto che in base all'arcata su cui dobbiamo andare a lavorare dovremo andare a fissare delle scacchiere. Per quanto riguarda la mascella, quindi il superiore, utilizzeremo questo tipo di strumento che tecnicamente chiamiamo head tracker, praticamente è uno strumento che ci permette, posizionato sulla fronte, vedete, del paziente, che in quanto la mascella è legata al cranio, il movimento della fronte corrisponde al movimento del superiore, quindi monitorando i movimenti della fronte siamo in grado di monitorare anche i movimenti del superiore. Viceversa per quanto riguarda l'inferiore abbiamo la necessità di andare a fissare questo elemento, potopolimerizzandolo su un elemento dentale e quindi attraverso questa azione noi iniziamo a fare l'operazione di registrazione. Alla fine di questa operazione portiamo avanti un test che prende il nome di test di accuratezza. Che cos'è questo test di accuratezza? Questo è un test molto potente che ci permette di capire se il processo che abbiamo portato a termine è stato portato a termine nel modo corretto oppure no. Come ce ne accorgiamo? Una volta che noi abbiamo effettuato la registrazione di questi tre elementi, minimo tre elementi dentali, con lo stesso tastatore, quando poi il software ha fatto la sua registrazione, andiamo a toccare una cuspide, quindi un repere anatomico che noi vediamo in bocca al paziente. Quando andiamo a toccarlo con il nostro tastatore lo schermo del computer ci deve restituire la stessa cuspide toccata. Quando noi abbiamo una congruenza tra quello che noi facciamo e quello che noi vediamo significa che il processo è andato a buon fine. Possiamo andare avanti con un secondo processo. Viceversa se questa punta noi tocchiamo la cuspide ma lo schermo non ci restituisce la cuspide toccata ma c'è una differenza, una distanza tra la punta del tastatore e quella cuspide vuol dire che c'è un'incongruenza e quindi quest'ultimo processo, il processo di registrazione, deve essere ripetuto. Solo nella misura in cui otteniamo congruenza tra quello che noi vediamo e quello che noi facciamo possiamo andare avanti con il protocollo Navident. Cosa consiste? Andare avanti consiste appunto a questo punto nell'avere un contrangolo con la scacchiera quindi vedete che questo contrangolo ha un adattatore universale. In altre parole questo non è un contrangolo dedicato Navident. Questo è il vostro contrangolo ma viene montato un adattatore universale che ci permette di adattare il vostro contrangolo ad una modalità di lavoro dinamica. Per quale motivo abbiamo scelto come filosofia appunto quella dell'adattatore universale? Perché questo ci permette di poter adattare la chirurgia dinamica non solo al contrangolo ma anche alla turbina per quanto riguarda l'endodonzia, chirurgia endodontica oppure canali calcificati piuttosto che non chirurgia piezo utilizzando strumenti ultrasonici o sonici a manipolo dritto. Tutti questi elementi sono in qualche modo adattabili alla chirurgia dinamica e vedete che noi andremo a utilizzare il nostro calibro prima per andare a calibrare l'asse del contrangolo. Essendo il nostro contrangolo e avendo questo contrangolo un certo angolo abbiamo la necessità di comunicare l'angolo al software. Come facciamo? Abbiamo appunto una posizione che si chiama 1L o 1R a seconda che sia mancino o no in cui andiamo ad inserire su un perno il mandrino del contrangolo e andiamo a fare un quarto di giro. Attraverso questo quarto di giro il software è in grado di recuperare i 360 gradi quindi l'angolo del contrangolo. Dopodiché andremo ad inserire la nostra fresa pilota e la fresa pilota vedrete la inseriremo nel punto numero 2. Attraverso il posizionamento sul punto numero 2 le due telecamere misurano la lunghezza della fresa e quindi una volta effettuata questa operazione noi che andiamo a fare? Ancora una volta una prova di accuratezza. Andiamo a toccare un repere anatomico in bocca al paziente e facciamo in modo che questo repere anatomico sia realmente toccato e mostrato dal software. Se noi vediamo congruenza ancora una volta possiamo andare avanti. Se invece non c'è congruenza cioè io tocco la cuspide di un elemento dentale e le immagini del software mi rappresentano una punta staccata rispetto a quella cuspide quindi un'incongruenza tra quello che io faccio e quello che io vedo dobbiamo andare a ripetere quest'ultimo processo cioè la calibrazione dell'asse e la calibrazione della punta. In questo modo fino a quando non abbiamo l'accuratezza non ci possiamo spostare in avanti ma dovremo ripetere quest'ultimo processo fino a quando noi avremo ottenuto l'accuratezza. E cosa succede nel passo successivo? Beh succede appunto che noi siamo in una modalità chirurgica cioè che a quel punto con la pianificazione dell'impianto che abbiamo avuto possiamo avvicinarci all'impianto e vediamo che compare un target e qui il gioco sta nel rimanere al centro di questo target e portare avanti non solo l'ostiotomia ma anche l'inserimento degli impianti e gli impianti verranno calibrati utilizzando direttamente il calibro. Il calibro come accennavo è in titanio quindi non abbiamo paura di avere una contaminazione incrociata tra il titanio dell'impianto e il titanio del calibro ed essendo in titanio il calibro è autoclavabile quindi è un oggetto sterile che io ho posizionato sul tavolo servitore. Questo è tutto il flusso di lavoro per gestire le dentulie intercalate. Allora vorrevo sottolineare e rivedere con voi un elemento chiave che è appunto la registrazione dell'STL. Abbiamo detto che abbiamo i denti virtuali nel caso dei pazienti con edentulie intercalate ma che possiamo andare a registrare delle cerature diagnostiche per pazienti edentuli o per situazioni di edentulie estese. Come facciamo? Qual è il protocollo Navident per andare a registrare un file STL? Ecco qui lo vediamo perché noi abbiamo la classica immagine del Navident dove ci presenta cinque quadranti. Abbiamo il quadrante del 3D rendering, abbiamo la panorex, abbiamo le immagini assiali, abbiamo la saggettale e abbiamo la coronale. Questi sono i cinque quadranti che ci vengono presentati dal Navident e poi qui accanto abbiamo un pannello di controllo e se vedete all'interno di questo cerchio rosso c'è appunto scansione di superficie. Questa è la funzione che dobbiamo andare a cliccare per andare a registrare il file STL. Che succede quando clicchiamo su quel tasto? Questo è molto semplice perché il software praticamente ci porta all'interno di questa interfaccia. Vedete che abbiamo il rendering 3D e abbiamo questa rappresentazione bidimensionale delle saggettali. A questo punto che cosa dobbiamo fare? A questo punto vedete qui abbiamo una funzione che importa scansione di superficie. Cliccando su questo tasto ci compare questa icona di navigazione e possiamo andare ad identificare esattamente il file STL che ci interessa. il file STL che è stato prodotto o dal nostro laboratorio oppure magari anche direttamente da noi utilizzando uno scanner introvale elettromagnetico. A questo punto cosa facciamo? Una volta che noi abbiamo caricato, vedete l'immagine del file STL ben rappresentata in questo quadrante, l'operazione è molto semplice perché l'operazione consiste nell'identificare minimo tre punti sia sui dati TAC che sul file STL. Vedete qui c'è il margine incisale, qui c'è un margine incisale, qui c'è un'altra cuspide, qui c'è un'altra cuspide, quindi con minimo tre punti, ma possiamo anche aggiungerne altri se vogliamo aumentare eventualmente la qualità di questa registrazione, quello che noi otteniamo e lo vediamo praticamente nelle immagini a destra è più nemmeno che la registrazione del file STL sui dati TAC. A questo punto se io ho un solo file STL non faccio altro che fare salva e chiudi e a questo punto questo file STL lo vedrò direttamente registrato sull'anatomia del paziente, ma il Navident ha una qualità ulteriore, cioè quella di permettermi di registrare più file STL. Qual è la modalità? Allora a questo punto come vedete io posso andare avanti e posso sostanzialmente importare la scansione inferiore e importare anche la scansione di byte. Come faccio io a registrare quindi l'antagonista rispetto al mio STL superiore? Utilizzando come chiave occlusale la scansione di byte e quindi cosa andrò a fare? Andrò prima a registrare il superiore sul byte superiore, ancora una volta andando a identificare dei punti e lo stesso punto lo andrò a segnare sul byte superiore e questo è il risultato che ottengo. Vedete io ottengo l'immagine che a questo punto non è più rossa ma è verde a dimostrazione che è stata registrata l'antagonista sul byte, scusate il superiore sul byte e per quanto riguarda l'antagonista andrò in questo caso a disegnare gli azimuth delle papille direttamente sugli azimuth del byte e in questo modo come vedete minimo tre punti avremo la registrazione sia del superiore che dell'inferiore quindi quando noi facciamo salva e chiudi otterremo queste immagini vedete otterremo le immagini del superiore con la registrazione del file STL e dell'antagonista queste due immagini come vedete noi siamo in grado di controllarle diversamente ma abbiamo anche la possibilità di nasconderle a seconda della nostra esigenza potremmo andare a nascondere l'antagonista o potremmo andare a nascondere il superiore a seconda della nostra esigenza queste sono delle operazioni con i file STL molto importanti sempre in un'ottica di chirurgia protesicamente guidata allora cerchiamo a questo punto di affrontare un altro tema molto importante che è la gestione del paziente totalmente edentulo abbiamo visto prima il protocollo del paziente parzialmente edentulo e adesso affrontiamo il protocollo del paziente totalmente edentulo in qualche cosa abbiamo già anticipato prima perché cosa abbiamo detto quando abbiamo parlato della registrazione abbiamo detto che appunto la facciamo attraverso la scansione non solo con di un marker radiopaco ma anche di un di almeno tre elementi dentali abbiamo aggiunto il concetto di una registrazione fatta con delle viti trasmucose e abbiamo detto che questo concetto di andare ad inserire delle viti trasmucose in bocca al paziente nasce proprio per il fatto che non abbiamo nessun repere radiopaco nella bocca di un paziente totalmente edentulo e che quindi questo repere radiopaco dobbiamo andarlo ad inserire noi nella forma di viti trasmucose e quindi andiamo un attimo a vedere passo 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 come si sviluppa il protocollo navident per i pazienti totalmente edentuli e quindi abbiamo praticamente la necessità di dotarci di viti ustomed o viti di osteosintesi per quale motivo voi vedete le viti ustomed e per quale motivo voi vedete le viti ustomed perché la caratteristica delle viti ustomed è quella di essere una volta essere toccate sulla testa dal nostro tastatore vengono riconosciute automaticamente cioè in altre parole non c'è più bisogno di andare a disegnare con il nostro tastatore disegnavamo la superficie del dente perché avevamo detto abbiamo bisogno di un volume per andare a fare l'operazione di registrazione in questo caso le viti ustomed non devono essere disegnate dal nostro tastatore è sufficiente andare a toccare la testa di queste viti affinché il software riconosca la vite ustomed e quindi mi metta in condizione di avere l'immagine volumetrica di quella vite devo lavorare solo con le viti ustomed? No, posso andare a lavorare anche con altre viti di osteosintesi ma in quel caso io dovrò andare con il mio tastatore a disegnare la testa della vite ripeto, la differenza fondamentale tra le viti ustomed e le altre viti è che con il tastatore se tocco semplicemente la testa delle viti ustomed queste vengono riconosciute dal software il quale è in grado di ricostruire il volume di queste viti se io utilizzo delle viti non ustomed con il tastatore dovrò andare a fare la stessa operazione che facevo sui denti cioè dovrò andare a disegnare il volume delle viti che non sono ustomed in modo da poter dare questa informazione volumetrica al software quindi primo elemento importante le viti secondo elemento importante la protesi di scansione ripeto stiamo parlando di una chirurgia protesicamente guidata quindi la protesi è la chiave della pianificazione e della chiave della chirurgia come faccio io a dare e a registrare un file STL su un paziente totalmente dentulo per quanto riguarda il paziente parzialmente dentulo abbiamo i denti che possono essere utilizzati per fare questa registrazione ma in un paziente totalmente dentulo in che modo possiamo andare a registrare un file STL sull'anatomia del paziente? bene abbiamo bisogno di una protesi di scansione con dei reperi radiopachi questi pallini di colore bianco non sono altro che dei pallini in quarzo dei pallini radiopachi che il paziente indossa in questo caso vedete abbiamo anche un pallino non solo sul superiore ma anche nell'inferiore perché in questo caso la dentulia è bimacellare e quindi avremmo le due protesi di scansione in occlusione con ben evidenziati questi pallini bianchi che come ripeto sono praticamente dei reperi radiopachi a questo punto il paziente con le protesi di scansione e con le viti ustomed posizionate o a livello clusale o a livello vestibolare e abbiamo detto che abbiamo almeno un minimo di 4-5 di queste viti trasmucose può andare a fare la combim quindi va a fare una combim normale e a questo punto come nel caso del parzialmente edentulo noi abbiamo i nostri file DICOM che andiamo a caricare direttamente sul software una volta caricati cosa facciamo? vedete questa è l'immagine che ci viene riconsegnata dal paziente questi pallini bianchi radiopachi che voi vedete non sono altro che questi pallini radiopachi che erano indossati dal paziente in fase TAC li vediamo in questo modo perché sono appunto radiopachi e cosa facciamo allora? vedete che la nostra file STL è stato prodotto scansionando le protesi di scansioni che avevano queste protuberanze radiopache e quindi quello che fa il clinico è molto semplice con il suo cursore va a indicare un punto magari questo punto che è il punto che lui legge dalla TAC e lo stesso punto che lui legge dal file STL così il secondo così il terzo così il quarto alla fine queste due informazioni saranno registrate saranno registrate l'una con l'altra il file STL come vedete si mescerà in modo perfetto con il superiore del paziente ed in questo modo come vedete il medico farà la sua pianificazione andando a stabilire la posizione degli impianti e avendo un'emergenza a livello protesico che è progettabile, che è pianificabile e che eventualmente laddove ci fossero interesse può anche portare al confezionamento di un provvisorio postchirurgico da ribasare in bocca al paziente dopo la chirurgia perché io potrò con Navident esportare queste informazioni in modalità STL quindi io avrò la ceratura diagnostica e avrò per ciascun elemento implantare l'emergenza rispetto alla ceratura diagnostica queste due informazioni posizione implantare e ceratura diagnostica montate su un software dal laboratorio permettono al laboratorio il confezionamento di un provvisorio postchirurgico da ribasare dopo l'intervento chirurgico quindi cosa facciamo noi? abbiamo detto la nostra pianificazione facciamo prima della chirurgia il tracing quindi la registrazione io ricordo che sono due operazioni distinte la registrazione con il matching del file STL il matching del file STL ha come obiettivo l'identificazione di una protesi congrua su cui puoi andare a pianificare i nostri impianti la registrazione che noi adesso facciamo con il nostro tastatore ha l'obiettivo di andare a verificare e a validare il dato TAC sul dato anatomico del paziente quindi questa operazione quella di registrazione noi la facciamo in che modo sul paziente edentulo perché se vi ricordate sul paziente parzialmente edentulo utilizzavamo questo caschetto e utilizzavamo una farfallina bianca e nera che veniva polimerizzata su un elemento dentale ma in questo caso non c'è un elemento dentale ma come vedete questa farfallina ha una placchetta con tre fori attraverso questi tre fori passano delle viti di ostiosintesi e attraverso queste tre viti di ostiosintesi noi andiamo a fissare questa farfallina sul macellare inferiore del paziente perché sul macellare superiore come possiamo vedere andremo a utilizzare il nostro caschetto vedete questa immagine qui dove vengono rappresentati vengono rappresentate le diti Ustomed in questo caso con il nostro tastatore che abbiamo fatto abbiamo semplicemente toccato la punta la testa di queste viti e automaticamente il software le ha riconosciute e ha costruito il volume di queste viti e attraverso questo volume è andato a registrare il dato anatomico sul dato TAC questo è l'operazione che noi facciamo e che noi gestiamo attraverso il tracing e questa operazione come abbiamo capito la svolgiamo subito prima dell'intervento in quanto dopo questa registrazione e ancora una volta dopo aver fatto la prova di accuratezza quindi aver dimostrato che c'è una congruenza tra quello che noi facciamo e quello che noi vediamo siamo andati sostanzialmente a questo punto in fase chirurgica e come vediamo nella fase chirurgica compare il nostro target e l'obiettivo è sempre lo stesso rimanere al centro di questo target sia per quanto riguarda l'ostiotomia sia per quanto riguarda l'inserimento degli impianti questo è il protocollo per la gestione dei pazienti totalmente edentoli anche questo mi preme sottolineare che è un protocollo che ci differenzia rispetto alla concorrenza perché noi diamo la possibilità di lavorare sui pazienti totalmente edentoli ma la nostra concorrenza ancora non ha sviluppato un protocollo analogo adesso voglio semplicemente e mi sto avviando alla fine della mia presentazione ma voglio in qualche modo presentarvi alcune peculiarità del software Navident che sono molto importanti una di queste peculiarità è quella di aggiungere un piano di taglio come vedete questo è il nostro pannello di controllo e qua c'è una funzione Add So Cut aggiungi piano di taglio che cos'è il piano di taglio ne è più nemmeno che questo parallelipipedo che io posso andare a posizionare secondo un obiettivo clinico che in questo caso è legato a una tecnica sandwich quindi a due millimetri dal nervo per andare a poi a utilizzare uno strumento sonico o ultrasonico per poi andare a fare un inlay tagliare seguendo quel piano quel piano di taglio e ancora una volta il Navident mi aiuta attraverso praticamente il target per andare a identificare esattamente un piano di taglio in questo caso longitudinale che mi servirà appunto a creare poi una botola su cui andare ad inserire il materiale diciamo di riempimento questa è un'operazione che con il Navident è molto semplice ed è gestibile appunto in modo molto pratico ma c'è un altro elemento importante e cioè l'utilizzo di un impianto potenzialmente parallelipipedo voi sapete che Mectron è uscita con l'impianto Rex che non è un impianto cilindrico ma un impianto a forma di parallipipedo da utilizzare nel caso di atrofie conclusali quindi di altezze orizzontali molto ristrette ecco che l'impianto cilindrico in quel caso non può essere utilizzato va utilizzato secondo la filosofia di lavoro l'impianto appunto cilindrico il Navident è al momento l'unico software che permette al clinico di poter pianificare un impianto che non è cilindrico ma è parallipipedo lo vediamo in modo ben rappresentato da questa immagine qui abbiamo un impianto parallipipedo e qui abbiamo un impianto troncoconico questa opzione è un'opzione che è gestibile direttamente con il Navident è un elemento anche questo distintivo del Navident adesso permettetemi di aggiungere diciamo un'informazione ancora più secondo me galvanizzante legata al Navident e legata alla versione 3.0 che è la prossima versione la versione che verrà lanciata da Klaronav durante la prima settimana di febbraio perché io dico è assolutamente galvanizzante questa versione perché vi permetterà di poter aggiungere un abatment quindi voi non vi limiterete a progettare la posizione dell'impianto ma avrete la possibilità di poter pianificare il tragitto trasmucoso quindi poter gestire il tessuto molle attraverso un abatment in che modo questa operazione potrà essere gestita con la versione 3.0 vediamolo insieme innanzitutto cliccando con il tasto destro sull'immagine dell'impianto cliccando con il tasto destro mi compare questo menu a tendina e come vedete all'interno di questo menu ho la funzione aggiungi abatment e cliccando su questa funzione mi comparirà un abatment e io chiaramente questo abatment potrò andarlo a selezionarlo quindi seleziona abatment in che modo ancora una volta io mi posizionerò a questo punto sull'abatment non più sull'impianto e con il tasto destro andrò praticamente a creare questo menu a tendina dove mi viene data la possibilità di selezionare l'abatment a questo punto vedete una volta che io ho selezionato l'abatment mi compaiono così come per l'impianto dei quadrati e dei cerchi i cerchi così per l'impianto non fanno altro che condizionare l'angolo dell'abatment che in questo caso è 16 gradi ma che può in qualche modo essere variato e come vedete io oltre praticamente all'angolo ho anche delle maniglie e cosa mi serviranno queste maniglie beh per pianificare praticamente il diametro di questo abatment e sostanzialmente io ho la possibilità di avere un'altezza praticamente in questo caso di 2.7 millimetri e un diametro di un millimetro entrambi questi valori possono essere modificati quindi io posso modificare l'angolo e posso modificare l'altezza e il diametro dell'abatment ma è qui l'aspetto ancora più interessante su questo abatment sempre cliccando col tasto destro potrò andare nelle proprietà vedete le proprietà mi restituiscono esattamente queste informazioni del mio abatment ma le informazioni più interessanti sono in questa posizione perché come vedete io posso avere un abatment circolare cioè con nessuna posizione con otto posizioni con sei posizioni o con tre posizioni e posso avere queste posizioni o con uno spigolo rivolto verso il vestibolo oppure posso avere con lo spigolo mesiodistale quindi o scelgo e pianifico un abatment con uno spigolo vestibolare oppure posso pianificare un abatment con gli spigoli mesiodistali per quale motivo è importante perché io quando andrò a posizionare il mio impianto manualmente dovrò andare a dargli la posizione dell'esagono che potrà essere ancora volta o con lo spigolo vestibolare o con gli spigoli mesiodistali e questo è un elemento molto importante e io sono molto contento di questa funzione perché ho la possibilità di progettare un abatment provvisorio che può anche diventare definitivo laddove non ci sia una recessione dei tessuti molli e questo come voi sapete meglio di me poter andare a lavorare con un abatment che non devo andare a togliere e mettere andare a togliere e mettere è molto importante per quanto riguarda la gestione dei tessuti molli quindi con la versione 3.0 che ripeto si renderà disponibile a partire dalla fine della prima settimana di febbraio io non solo vado a gestire la mia implantologia ma vado a gestire anche la mia protesica i miei abatment la mia componentistica protesica e quindi posso andare a lavorare seguendo questa modalità e io ripeto sono molto contento e molto elettrizzato da questo tipo di possibilità unica con il Navident quindi ragazzi io sono arrivato alla fine della mia presentazione e quindi sostanzialmente ringrazio voi che avete avuto la pazienza e l'interesse di seguirmi io tra l'altro chiudo la mia registrazione ma voglio lasciare spazio a voi per andare praticamente a aprirmi appunto e a rispondere alle vostre domande quindi interrompo la registrazione e